Questo breve video vi illustrerà come preparare correttamente Medigel, polvere addensante. Sarà possibile ottenere tre consistenze diverse a seconda della quantità di polvere disciolta in 100 ml di acqua. Medigel può essere utilizzato per addensare anche altri liquidi, come latte, succhi, minestre. Per ottenere una consistenza leggermente densa, versate mezzo misurino di Medigel in un bicchiere con 100 ml di liquido e mescolate fino a completo scioglimento. La consistenza finale sarà questa. Se invece volete ottenere una consistenza moderatamente densa, versate un misurino di Medigel in 100 ml di liquido e mescolate fino a completo scioglimento. La consistenza finale sarà questa. Infine, per una consistenza densa, versate due misurini di Medigel in 100 ml di liquido e mescolate energicamente fino ad ottenere questa consistenza. Il misurino necessario per la preparazione è incluso nella confezione. Grazie. 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 Grazie.